Cinque punti di accoglienza, strade sgomberate dalle auto, case evacuate, utenze disattivate. Sembra un vero e proprio scenario da guerra. Quello che si appresta a diventare la zona rossa è le vie, nelle vicinanze di via Spalato, a pochi passi dal quartiere Ferrovie, dal centro della città di Foggia, dove ci sarà l'evacuazione dell'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale, in programma domani 2 giugno. Autobotti dislocate nei punti nevralgici a ridosso della zona rossa e colonne di mezzi della Croce Rossa per uno dei punti di accoglienza predisposti dal comune di Foggia. Saranno chiuse alcune strade e saranno modificate anche alcune tratte ferroviarie. A disposizione del piano massiccio di evacuazione sono scesi in campo anche i medici di Capitanata, che in forma volontaria e gratuita saranno a disposizione per eventuali interventi di assistenza nei vari punti di accoglienza predisposti dal comune. In molti lasceranno le proprie abitazioni oggi per trasferirsi temporaneamente da amici e familiari. Per chi non dovesse avere la possibilità di trasferirsi, il comune ha predisposto 5 punti di accoglienza allestiti nella villa comunale, nell'università, all'interno di tre palestre, nelle zone periferiche della città. I medici di Capitanata hanno immediatamente dato la propria disponibilità rispetto alle operazioni di prima accoglienza dei cittadini residenti nella zona coinvolta. La loro presenza è fondamentale qualora si dovessero verificare episodi di malore dovuti anche alla situazione che crea ansia, soprattutto in anziani e disabili costretti ad allontanarsi dalle proprie case. Anche il presidente dell'ordine dei medici di Capitanata, il dottor Pierluigi De Paoli, si sarà presente nei punti di accoglienza prestando la propria attività in modo volontario a titolo gratuito. Le operazioni di rimozione inizieranno alle 8.30 di domenica 2 giugno e salvo complicazioni dovrebbero terminare entro mezzogiorno. Intanto dal comune di Foggia arrivano nuove disposizioni relative alle operazioni di bonifica e nello specifico obbligano alla rimozione di tutte le auto nelle strade limitrofe, la zona rossa ovvero in via Monfalcone, via Onorato, via Spalato, via Zara. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni le auto saranno rimosse equattivamente. Per quanto riguarda il rifornimento idrico, le autocisterne saranno posizionate oggi in via Sant'Alfonso de Liguori a piazza Sant'Eligio e domani, domenica 2 giugno, piazza Vittorio Veneto in piazza Cavour, piazza San Franceschio a Largo Pianara. Oltre alla zona rossa saranno interessate dall'interruzione dell'energia elettrica anche le strade e le piazze agliacenti alla zona rossa. Per questo il comune invita tutti i residenti delle vicinanze a controllare se la propria zona rientra nell'interruzione dell'energia elettrica attraverso il sito del comune di Foggia. Sono stati diffusi avvisi tradotti anche in lingua inglese, francese e araba per facilitare le informazioni alla popolazione straniera coinvolta nel piano di evacuazione. Domani, domenica 2 giugno, dalle 7.40 alle 12.30, cambierà anche la circolazione dei treni tra Foggia e San Severo. Sarà interrotta per consentire le operazioni di bonifica. La stazione di Foggia sarà aperta al servizio ai viaggiatori, saranno garantiti i treni per Roma e Potenza, mentre alcuni collegamenti sulla linea adriatica saranno cancellati. Sono previsti dei bus sostitutivi o riprotezioni su altri treni per garantire il viaggio ai clienti già prenotati.